ciao amici di gorizia tv eccoci qua 1998 settembre la vasca del sabato guardate un po se vi riconoscete 24 anni fa di settembre 1998 guardate un po 1998 la vasca del sabato guardate guardate un po 1998 la vasca del sabato guardate che roba che pieno la vasca del sabato 1998 settembre settembre 1998 la vasca del sabato 24 anni fa cari amici 24 guardate un po con la piccolina oggi avrà 26 anni caro mio guardate che pieno guardate un po la vasca del sabato 1998 1998 1998 vedi quella piccolina lì oggi avrà 24 25 anni guardate guardate che bello 1998 1998 1998 la vasca del sabato chissà se vi riconoscete salutiamolo salutiamolo guardate i gioielli guardate guardate che traffico i fidanzati i fidanzati le due belle le chiamano le gemelle ma non sono si assomigliano ecco qua dal portogallo dal portogallo dal portogallo a gorizia eccolo lì salutiamo salutiamo bene il lato b va bene d'accordo porta molto bene ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti